mi raccomando una cosa fondamentale allora una cosa veramente importante quando incontrate ambienti come questo in giro ovvero piccoli stagni pozze piccole vasche anche ornamentali o agricole non devono essere assolutamente immessi pesci in questi ambienti qua questi ambienti qua sono gli ultimi baluardi che rimangono agli anfibi per la riproduzione e i pesci sono degli antagonisti naturali degli anfibi allora lui dice perché gli anfibi si e i pesci ma perché tipi per gli anfibi non è così anche se mi piacciono molto mi piace anche i pesci il punto che questi ambienti di piccole dimensioni sono da sempre storicamente da quando esistono da quando esistono migliaia di anni sono quelli utilizzati dagli anfibi gli ambienti di piccole dimensioni e spesso con essiccamento estivo ma non è detto comunque che non potevano in nessun modo essere raggiunti dei pesci in modo naturale naturalmente in maniera naturale secondo natura i pesci si trovano nei grandi laghi come i laghi glaciali ci sono i laghi enormi tipo il lago maggior eccetera ma anche esempi molto piccoli i laghi di aviviana lago di viverone potete pensarne quanti volete voi quindi i grandi laghi e fiumi e torrenti questi sono gli ambienti in cui naturalmente si trovano i pesci quindi andare a prendere da questi andare a prenderli da questi ambienti ormai da allevamenti perché sono allevati ovviamente andare a mettere in un ambiente che non è il loro per poterli guardare perché che belli i pesciolini crea un danno enorme ai poveri anfibi che senza nessuna colpa utilizzano il loro posto e qualcuno gli va a buttare dei pesci che mangiano tutte le loro larve le loro uova e gli anfibi non riescono più a portare al termine della riproduzione perché i pesci rossi le gambusie le carpe coi sono pesci all'octone quindi ancora peggio nel senso sono pesci non originari delle nostre zone quindi non c'entrano nulla nell'ecosistema quindi non devono stare nell'ecosistema ovviamente poi va bene io capisco che se uno ha la sua villa è appassionato di carpe coi se si fa il suo laghetto ci mette le sue carpe coi dentro il suo terreno va bene va bene l'importante è non andare in natura o nei parchi pubblici per esempio dove ci sono spesso laghetti o vasche a buttare i pesci soprattutto perché non li si vuole più ma anche se li si mette perché si pensa lì staranno meglio hai messo i pesci hai fatto sparire gli anfibi da questo posto per sempre e rimarranno i pesci e quindi cerchiamo di diffondere questa conoscenza di questo è questione di conoscenza se uno conosce e sa che i piccoli ambienti umidi come questo devono essere liberi da pesci come l'ecologia come come la natura vuole allora facciamo in modo che lo che restino privi di pesci e attenzione di pesci e anche ovviamente di tartarughe gestorgini palustri americane quelle le trachemis quelle delle orecchie rosse delle orecchie gialle che purtroppo la gente ha iniziato a buttare anche lì ha fatto dei grandissimi danni perché queste sono riuscite anche a ambientarsi sebbene siano all'otto neanche loro sudamericane e fanno degli enormi danni ambientali se c'è una grossa popolazione che si era magari anche riprodotta di testugini palustri americane in un laghetto di 100 metri quadri se c'erano degli anfibi è difficile che sopravvivano quindi anfibie pesci e tartarughe è uguale questa cosa ricordiamoci questo ognuno ha il suo posto quindi i pesci all'ottoni in acquario al massimo in un laghetto privato costruito nella propria casa per raccoglierli perché sono all'ottoni non dovrebbero stare sul territorio europeo o italiano quello che sia pesci all'ottoni acquario o al massimo se uno è proprio appassionato pesci non all'ottoni quindi autottoni cioè della fauna italiana devono stare nei grandi laghi nei fiumi e nei torrenti ma in ogni caso ci stanno già e nessuno deve andare a spostarli in buona sostanza il succo di tutto questo discorso è non bisogna assolutamente mai andare a liberare pesci o altri animali in ambienti naturali in particolare ci sono all'ottoni ma non solo ci sono all'ottoni perché se io vado a prendere delle scardole prendo 50 scardole che sono dei pesci autottoni li metto qua dentro ho rovinato l'ecosistema che è degli anfibi una piccola pozza è l'ecosistema degli anfibi infatti i pesci non ci sono perché non ci potrebbero mai arrivare qua da soli e io non ce li devo portare gli anfibi ci arrivano da soli perché è giusto che sia qui bene questo era per riprendere fiato in realtà però tenetelo a mente cerchiamo di diffondere questa cultura e se vedete qualcuno che fa questo genere di cose cercate di spiegargli perché non devono lasciare dei pesci in uno stagno in una vasca in un parco in un laghetto in giro in campagna perché distruggono un ecosistema per nessuna ragione